Mi dai la possibilità di ricordare delle persone come l'amico Michele Russo che per il Tribunale del Malato una trentina di anni fa ha rischiato il carcere insieme a lui Don Andrea la Regina, Peppe Gorinzio ed altri. Quella famosa sendenza scaturita a difesa dell'ospedale di Sapri ha fatto scuola e viene ritenuta una pietra miliare per il riconoscimento e la legittimazione dell'ospedale di Sapri. Il Tribunale del Malato quindi è nato per lottare e vive per la lotta della difesa della salute dei diritti dei cittadini e partecipare ad un tavolo di crisi che parla di queste cose è un diritto dovere da parte del Tribunale del Malato e del coordinatore. E' fuori da ogni logica chi cerca di ostacolare queste azioni.